bella ragazzi e ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video guide di forte io sono Darko88 e in questo video vende a spiegare come sbloccare il celebration pack totalmente gratis senza avere il plus ma prima di tutto ci tenevo a dirvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina su tutte le notifiche lasciare un bel like a questo video se vi sto piacendo e soprattutto ragazzi di seguirmi su instagram, trovate i link in descrizione per restare sempre aggiornati sul mio canale vi ricordo che ogni giorno sono in live per giocare con voi iscritti nei miei server privati oppure in creativa o altri mini giochi che si possono fare in creativa ma soprattutto ragazzi supportatemi come creatore nello shop TheDark26.5 per giocare con me in live e per partecipare ai miei contest e ai miei video e ogni volta che andrete a shoppare qualsiasi oggetto all'interno dello shop taggatemi nelle vostre storie per avere i vantaggi che vi ho detto precedentemente adesso passiamo al video tutorial allora il primo passaggio da fare raga è quello di creare un nuovo tenta playstation una volta inseriti i dati richiesti per creare questo utente basta andare nel playstation store e attivare il plus di 14 giorni una volta attivato questo plus basta andare nelle impostazioni di playstation e inserire la vostra playstation come principale raga una volta inserito questa opzione raga basta andare nell'account che desiderate per inserire quella skin fantastica e niente ragazzi spero che questo video vi sia stato d'aiuto se così sia vi raccomando commentate sotto nei commenti e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e ne volete altri e da vostro cadere che è tutto ci si becca nel prossimo video bella guys